Sabato e poi domenica E lì è sabato e poi domenica Buongiorno BIS a tutti i nostri telespettatori parleremo di più cose questa mattina come sempre cercheremo di darvi un fine settimana che vi possa però con tutte le brutte notizie che arrivano più tranquilla. Allora innanzitutto io voglio parlare di calcio anche se 5 minuti mi toccano Buongiorno innanzitutto all'ospite che è con me chi sei tu? Amidio Marcattini, segretario provinciale della funzione pubblica CG Un comunista vecchia data? Beh, io Quello che si chiamava un comunista col colbacco che mancava il colbacco una volta? No, no, no Io sono stato sempre di sinistra sono ancora di sinistra No, 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 il PC di una volta Sì, sì Che c'è rimasto del PC di una volta? Purtroppo niente Ah, quindi hai rimpianti? Sì, molto E allora perché non stai con rifondazione? Vabbè, non sto con rifondazione perché vedo che quando una una storia il PC è morto nel 1989 Con occhetto? Con occhetto, sì Quando piangeva, tutti piangono La Fornero piange, Occhetto piange Gli italiani piangono Piangono tutti però combinano Di guai Di guai Allora, tu piangi? Eh, no Sei contento? Adesso sono contentissimo Certo Allora, prima che entriamo nel senso fammi due o tre cose di calcio perché la cosa di calcio la parola calcio è sicuramente troppo grande perché delle cose che stanno accadendo di calcio non c'è niente Poi diamo un attimo del Giulianova Tu sei tifoso, no? Sì Quindi tu le ultime due partite non le hai viste No, no Allora sono successe delle cose Vabbè, a parte le porte chiuse Noi facciamo un appello qua perché non abbiamo paura di confronto anzi sarebbe opportuno che loro venissero a chiarire due vigili del fuoco che sono Di Blasio e De Rosa i quali nella riunione del 27 gennaio deciso di applicare alla lettera un dispositivo che però era entrato in vigore nell'agosto del 2011 Perché lo applicarono il 27 gennaio del 2012 quando ormai il campionato era in corso e si sapeva che il Fadini non era regola ma ci salvavamo perché il sindaco si assumeva la responsabilità Tu pensi come la legge Il campo è a rischio Manca la prevenzione incendi Potrebbe quindi succedere di tutto Parti incendiarsi che fare si incendi Ma crollare Ci sono dei problemi di sicurezza Però questi problemi scomparono quindi il campo si crolla e mora la gente non se ne importa più nessuno perché firma il sindaco e quindi la responsabilità è sua Quindi capisci com'è? Sì sì Il campo non è a norma però firma il sindaco Ora hanno scoperto che c'era questo decreto mi pare di PR con il quale si stabiliva che il sindaco non può firmare più Se firma si assume la responsabilità e viene denunciato automaticamente alla procura della Repubblica Allora si è deciso questo Sono stati questi vigili hanno detto che bisogna fare così non c'è stato niente da fare porte chiuse Allora bisognava trovare assolutamente un campo alternativo perché dopo quattro gare a porte chiuse qua c'è un altro bellissimo regolamento dopo quattro gare a porte chiuse le altre gare casalinghe si perdono senza giocarle 0 a 3 a tavolino però il regolamento ti permette di giocare quelli fuori Ti sembra una cosa seria Vabbè comunque ci sarebbe questo regolamento Allora si è pensato di trovare un campo di Roseto Il comune di Roseto si è andato a fare moltissimo tutti erano d'accordo si è fatta la riunione tutti d'accordo i componenti della commissione quella che decide i vigili fuoco ancora una volta hanno detto no non va bene Roseto ci manca non si può fare il prefetto attuale Salvatore Marino che tu conosci che è stato anche commissario si è battuto per mezz'ora ha pure questionato litigato non ci sta dire perché là basta un membro che dice di no e non si può fare quindi ci hanno tolto anche la possibilità di Roseto e si è perso del tempo quindi l'alternativa erano due l'Aquila che è lo stesso Girone quindi ha il servizio perché quando è l'Aquila non si è stato mai come il campo mi pare che ci sia una sola via d'uscita comunque vale l'Aquila e Teramo non è detto subito che la cosa migliore era Teramo però quindi l'Aquila è stata scartata perché sabato all'Aquila no domenica si gioca Giuliano ma poi l'altra domenica c'è la partita di rugby internazionale non si può andare perché si rovina il campo con il rugby tutti giocano con tutti i bol non si può fare Teramo è rimasto allora noi quindi vogliamo fare un appello a due persone al questore perché pare che la difficoltà sia quella perché il sindaco di Teramo è d'accordo Cantagalli che salutiamo è d'accordo Brucchi pare che sia d'accordo Mastromaro ovviamente è d'accordo il giorno di Calcio è d'accordo parlato di Sera la questura potrebbe si dice io spero di no che non sia vera questa voce porre ci possono essere delle condizioni di ordine pubblico su una partita di Giulianova versa Normanna perché qualche tifoso del Teramo e se ci stava il Teramo Giulianova che ci vuole l'esercito scusate quindi io mi auguro innanzitutto che la questura ti faccia un bel esame di coscienza anche se il questore qui è molto di casa proprio perché sappiamo che segue noi dobbiamo dire quello che pensiamo cioè abbiamo bisogno di una questura più forte meno paurosa perché ti ricordi tu quando ci fai le partite con la festa avevano splendore si giocavano con le giostre dentro al campo con Matteo del Fuoco che salutiamo quest'ora con due palle così si può dire di mattina siamo protetti non si può dire vabbè però salutiamo Matteo del Fuoco vabbè che è? non era perciò questo è grave che non lo era lo sarebbe dovuto essere commissario del Fuoco bravissimo momenti duri contestazione tu lo avrei conosciuto a seguire anche un po' in viso se vogliamo allora era bravo con le giostre dentro al campo invece quest'anno per una giostra che si era montata davanti non si sarebbe fatta la partita o si toglieva la giostra oppure non si giocava la partita più lo ricordo la famosa curva non sai perché è chiusa la curva est con i tifosi ospiti perché sono tre scalini scheggiati non rotti e quindi non si può andare allora poi un'altra bella sapete che io voglio fare caro direttore i tifosi del Teramo perché poi vi dico una cosa non fatela con me se veniamo a giocare sabato perché l'altro di sabato bisogna giocare perché domenica ci sta Teramo San Nicolò il direttore ha fatto dell'ironia ha detto prima c'era l'antipasto e poi facciamo la pietra noi siamo in questa condizione drammatica e quindi ci dobbiamo prendere tutti i tifosi del Teramo di darci una mano e lo so che è una cosa paradostale perché vi dico una cosa se non c'è il derby col Giulianova e si salva voi andate sicuramente viene promosso ormai non c'è più dubbi e non c'è questo guarda che questo campionato di C2 è di una noia mortale tremendo bruttino rimpiangevole Teramo Ancona Teramo Sant'Egidiese Teramo Iesir tutte le squadre che noi abbiamo incontrato in cui abbiamo giocato partite Civitanovese no? se voi avete il tocco Melfi Aversa Normanna Neapolis da morire veramente vi annoierete che sarà una cosa terrificante anche perché poi decino sempre chi deve vincere quindi dateci una mano e poi facciamo il bel derby un altro anno noi ci salviamo a vede promossi che vuoi e quindi io ci provo a farlo quindi non create problemi perché la questura c'è paura che si infiltrano i terramani a fare commedia in Teramo Neapolis Neapolis vuole che si sa che sarà a proposito non voglio fare polemica ma il sindaco di Gironova ha ragione glielo ho detto io veramente perché noi giriamo andate a vedere i campi del nostro girone sono di uno squallore secondo me illegalità balanga però nessuno interviene lui adesso ha scritto una lettera al ministero al ministro cancellieri del ministero dell'interno vediamo se la signora quella non è quella che piange quella è Fornero vediamo se va se manda le truppe cammellate visitare i distali ci basta del girone nostro e non di tutta Italia va beh grazie questo lo dovevo dire l'ho detto allora perché sei qua perché ti ho invitato mi hai invitato per celebrare un successo per celebrare un successo che si votava allora il 5, 6 e 7 sono state il rinnovo delle RSO che sono le rappresentanti sindacali unitarie all'interno del pubblico impiego e della scuola io credo che siano tre dati molto importanti primo la grande partecipazione dei lavoratori oltre l'80% nella nostra provincia e in tutta Italia hanno partecipato a queste elezioni cioè vuol dire che quando il lavoratore il cittadino anche in quanto tale sente una cosa sua partecipa partecipa la seconda cosa che vorrei rimarcare è che i tre sindacati confederali CGL e CISLEGUIL sono la stragrande maggioranza all'interno di tutti gli enti all'interno di tutti gli enti questo significa che una politica confederale alla fine alla fine terza cosa che mi inorgoglisce ancora di più è che la CGL nella nostra provincia ma in Italia ma specialmente nella nostra provincia ha raggiunto un risultato insperato noi negli enti locali superiamo il 48% dei consensi nella sanità superiamo il 35% dei consensi andiamo avanti ovunque in seggi e in voti dove si votava i comuni alla ALS il suo profilattico il suo profilattico la provincia di Teramo la questura la prefettura tutto tutto il pubblico in biega anche alla scuola che però alla questura come siete andati allora alla questura ti dico subito la questura è un po' difficile non l'avete vinta la questura non siete primi no alla questura non siamo primi chi è primo abbiamo allora la questura prima è la CISL però complessivamente tutti gli enti dello Stato cioè questura motorizzazione archivi di strada DPL Tribunale di Teramo DAP Procura Prefettura CSA noi abbiamo il 30% in provincia di Teramo superiamo il 30% mentre la CISL c'è il 13% la Will 22% eccetera però a questura non siete primi no alla procura vediamo questi dati che sono un po' sfiziosi alla procura abbiamo preso un seggio cosa che non non avevamo prima siamo andati siamo andati avanti prima la CISL pure lì no lì il CONVAS un sindacato autonomo autonomo poi allo zoo profilattico allo zoo profilattico lì siamo andati come dire abbiamo preso il 65% dei consensi ma tu riconosci i lavoratori allo zoo profilattico? alcuni sì alcuni no lì noi come CGE come funzione pubblica siamo tre funzionari per cui ci dividiamo ti voglio chiedere quelli che secondo te votano a CGL sono tutti di sinistra sicuramente o votano in questa circostanza perché sono d'accordo con voi ti voglio dare questo dato dello zoo profilattico 102 voti alla CGL 28 voti alla CISL 25 voti alla Will 8 seggi noi 2 alla CISL e 2 alla Will no assolutamente sono tutti di sinistra ti chiedevo? no no assolutamente guarda io ti faccio un esempio la camera del lavoro più grande d'Italia e Milano che c'è 850 mila iscritti alla CGL Milano Milano ma a parte le ultime elezioni ma questo storicamente anche prima per cui per cui non cioè alla CGL alla CGL dà il proprio consenso sia in termini di voti che in termini di deleghe il lavoratore perché riconosce alla CGL il sindacato che cerca alle volte ci riesce alle volte no perché di difendere i propri interessi i propri diritti dei lavoratori quindi tu conosci qualcuno che non è di sinistra ma che vota a CGL lo riconosce fisicamente ma io conosco fisicamente lavoratori che hanno in tasca la tessera del PDL che votano e che sono anche rappresentanti qualche settimana fa c'è stata l'onorevole della Lega che si è presentata lì con la tuta di lavoro e lei era nella sua fabbrica RSU della CGL eh capito allora vi conviene presentarvi voi invece del PD alle elezioni no no noi abbiamo prendete voti di partisan noi non ci abbiamo un ruolo vogliamo fare il sindacato perché e siamo il sindacato come dire come sono poi personalmente i rapporti col PC erano storici molto legati adesso qual è il rapporto col PD? ma il rapporto col PD è un rapporto con un partito politico dove dove governa noi come sindacato ci incontriamo e ci scontriamo insomma te lo posso chiedere tu sei del PD? no non sei del PD? mi cagnate? no ma non sono mai preso la testa è vero da quando è morto la Cocchetto nel 1900? sì 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 no no poi mi sono stato iscritto con il PDS da quando è nato il PD io non niente e ora non gli voti allora? no no ma non è importante io non credo che sia importante ma per curiosità ma nell'ambito della sinistra sei rimasto sì sì non è come l'onorevole della Lega con la tuta no 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 io ma molto probabilmente lei era anche prima di destra insomma adesso i lavoratori che benefici possono ottenere in realtà nel senso pratico da questa vostra vittoria in che cosa li potete tutelare? la cosa che intanto vogliamo ringraziare tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che ci hanno dato questo grosso consenso e tutti i candidati perché noi abbiamo eletto 116 candidati su circa 270 seggi a disposizione cioè oltre intorno al 45% dei seggi quindi c'è una maggioranza relativa si direbbe sì abbiamo una maggioranza relativa però insomma ma quindi è andata meglio rispetto all'altra volta comunque sì 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 è andata meglio rispetto all'altra volta sia in termini di seggi che in termini di percentuali come si fanno le percentuali no? i raffronti poi è facile perché qual è l'ultimo quanto tempo si vota? lì si allora l'ultima volta si è votato nel 2007 tieni conto che in provincia di Teramo ci sono circa 400 dipendenti pubblici meno rispetto all'altra volta licenziati? no 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 sono le dimensioni che non sono stati e perché? scusa ma se uno va in pensione se non viene sostituito voglio dire due cose o che prima era troppo o che adesso è troppo poco tu sai che nella sanità no? e soprattutto nella sanità negli ospedali negli ospedali manca il personale di supporto per si chiama OTA OS che sono quelli proprio la manovalanza allora OTA e diciamo il vecchio portantino il vecchio portantino tu sei andato sempre al laboratorio analisi sei stato? hai fatto il portantino pure? no no sub sei entrato là il partito ha fatto entrare là eh? il partito ti aiutate a entrare diciamo no 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 ma io non ma non lo devi negare ho fatto il concorso ho fatto il concorso ho vinto un concorso ti hanno detto qual era il tema e tu l'hai fatto no 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 assolutamente allora in che cosa ti ha aiutato il partito? assolutamente ma il partito non mi ha aiutato hai aiutato perché dici che ti ha aiutato il partito? in molti siete stati aiutati a Giulianova quello che so a entrare in ospedale perché da volte se si è a Giulianova si assumeva al comune e all'ospedale ma né al comune né all'ospedale vero? vabbè se ti devo dire la mia allora cosa personale è che mio padre ebbe un ictus e poi morì per cui diciamo che sono entrati in ospedale questo è il senza nessun tipo va bene senza nessun tipo di raccomandazione tuo padre era l'unico che lavorava in famiglia sì sì quindi avete avuto momenti drammatici sì ho avuto momenti drammatici perché poi lui non arrivò al minimo della pensione poi riuscimmo a ritrovare i due anni che lui aveva lavorato le cose per cui mia madre prende la reversibilità altrimenti i primi tempi i primi mesi della cosa dopo la morte neanche la reversibilità niente avevate? no tu ti ricordi? non lo dici ma qualcuno vi ha aiutato sì la famiglia la famiglia è stata vicina sì sì c'ho i parenti le cose per cui insomma tu non c'hai una zia che fa delle ottime non c'hai niente che fa delle ottime paste? sì sì Maria sì sì quella è la sorella mio padre Maria quindi Marcattini di Bellante voi siete? sì sì di Bellante però io avevo cinque anni cinque anni quindi quando tuo padre è morto? no quando siamo venuti a Giulianova ah da Bellante come mai siete venuti? siete scesi sul mare questo poi non non fa niente dovresti vabbè tutti siete venuti perché pure l'azio molti di Bellante sì sì molti ce ne sono anche se qualcuno poi per la vicenda delle case è venuto a abitare a Bellante Ernani cittadini per esempio sì poi è tornato a Giulianova la professoressa Paolini per esempio che da Giulianova è andata a Bellante ma si è tornata poi si torna sul luogo e vabbè comunque allora poi però tu sei andato in laboratorio di analisi sì e poi come mai hai deciso di smesso? stai ancora potevi rimanere là perché hai deciso di passare nel sindacato attivo? io ho sempre fatto diciamo politica e sindacale la CGL mi ha fatto una proposta che non hai potuto risiutare eh no 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 mi piace mi piace ti devo fare la pubblicità? mi piace grazie grazie buongiorno direttore che ci piace a tutte loro vedi come collabora mi piace per cui mi ha fatto questa proposta e fino a qualche anno fa dirigevo una categoria industriale che era la Fillea quelle degli edili eh da lì è partito Giampaolo da lì è partito Giampaolo vanno in battaglia ti ricordi la Coggio e Faro come no Coggio e Faro il traforo e Gran Sasso il traforo e Gran Sasso il traforo e Gran Sasso lo sopra e la rovescia nella valle sì sì al Vomano bei tempi bei tempi di notte non avete più lo stesso pezzo di una volta beh è chiaro che le varie leggi e poi tutta una serie di controriforme sul lavoro ha portato noi come CGL in questi anni siamo stati l'unici che comunque ha dato un supporto alle lavoratrici e ai lavoratori noi abbiamo fatto degli sciopri l'ultimo ieri con la FIOMMA ieri era a Roma la FIOMMA a Roma sì sì come la pensi tu sull'articolo 18 io sull'articolo 18 credo che non sia un problema insomma noi il problema ce l'abbiamo come Berlusconi allora non è un tabù dice Berlusconi no no non è un problema nel senso che noi abbiamo il problema di trovare i vostri lavori non di non di di toglierli e l'articolo 18 è un lo statuto di lavoratori è una legge di civiltà facciamolo capire brevemente allora se io ho capito bene cioè come stanno le cose adesso? per essere licenziato uno ci vuole la giusta causa un motivo male se si toglie l'articolo 18? se si toglie l'articolo 18 si rischia di tornare come era 60 anni fa e cioè? che il datore di lavoro la sera ti dice domani mattina non tornare perché no e non deve tu sei antipatico al datore di lavoro non c'è nessun'altra motivazione? non c'è nessun'altra motivazione dice domani mattina lui ti caccia sì sì e tu non puoi fare nulla? non puoi fare nulla ma guarda che in Italia sembra che non si possa licenziare non è vero perché se abbiamo perso centinaia di migliaia di posti di lavoro in questi anni in questi anni di crisi ciò vuol dire che quando si fanno le riconversioni industriali quando si fanno le aziende licenze se non mettono in mobilità in cassa integrazione questo per motivi economici io dico purtroppo purtroppo io dico purtroppo ci stavano non si può licenziare perché uno prende la testa di un sindacato o perché la pensa politicamente in un certo modo e quello succede ancora? non più dai negli anni 80 ma guarda forse nel nostro territorio no però se andiamo più a sud può darci quello che succede succede allora ma fate entrare il benzo Palladini perché intanto si prepara e volevo chiederti i giovani che dici tu ai giovani che cercano un lavoro disperatamente? il problema è questo ieri c'è uscito proprio noi possiamo dargli lo strumento di aiuto cioè quello della lotta e della battaglia la cosa che stiamo facendo la trattativa che sta facendo a livello con il governo è quello di cercare di togliere questa precarietà in Italia ci sono 45 tipologie di contratti di lavoro a chiamata intermittenza qui come siamo in provincia di Teramo in provincia di Teramo siamo diciamo la provincia come era la provincia dove il manufatturiero era come dire la valle grande la valle dell'Eden ti ricordo finito tutto? quasi diciamo finito tutto finito tutto no però siamo la provincia che in Abruzzo ha più ore di straordinario ha più mobilità eccetera eccetera c'è la crisi la sentiamo e quindi che potere che significa gli diamo gli strumenti la lotta perché stiamo facendo la battaglia a livello nazionale perché questa precarietà si venga meno e come se la gente non assume le ditte non assumono allora il problema è questo il problema non è l'articolo 18 il problema è in entrata ma questo è chiaro allora la crescita allora la crescita bisogna fare delle scelte il governo che purtroppo fino ad oggi fino ad oggi queste scelte credo che il governo Mondi sia per certi versi la continuità del governo Berlusconi cioè va bene allora dobbiamo investire sulla ricerca no non va bene per molte cose non va bene dobbiamo investire sulla ricerca dobbiamo investire sull'innovazione solo in questo modo noi riusciamo a fare a creare nuovi posti di lavoro altrimenti non la gente quindi la battuta sul posto di lavoro quello sicuro ma questo secondo me io credo che sia l'aspirazione di ogni di ogni essere umano di trovare un posto dove la sera uno va a dormire sapendo che la mattina dopo invece quelli che la mattina devono alzare la serrante quelli stanno preoccupatissimi quelli stanno preoccupatissimi perché chiaramente chiaramente se non ci sono come dire soldi da spendere ci sono molti negozi che chiudono lo sai anche le terziarie molte attività commerciali dai dici una cosa positiva per me di andarte dai una speranza non ti restare un fine settimana triste dai no non è un fine settimana triste però il problema la seconda contendo perché hai vinto ma traduciamolo in termine pratico che l'agenda se viene con voi che speranza può avere ma l'agenda votate e fate votare CGL no vabbè oramai è fatto oramai si è votato si può dire oramai si è votato noi cercheremo negli enti dove dove siamo presenti cioè nella stragrande maggioranza di l'Ine è quello di portare avanti le istanze dei lavoratori e cercare di migliorare le condizioni di lavoro perché anche nel pubblico in bieco ci sono condizioni di lavoro diciamo precarie 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 da un certo ma anche di sicurezza ma anche di sicurezza eh perché ad esempio negli ospedali mancano gli infermieri mancano gli os perché mancano e ci vorrebbero perché tu lo sai ma non si assume perché non ci sono i soldi non si assume non tanto perché non ci sono i soldi perché ci sono delle leggi che vietano cambiatele poi dovete fare ma noi guarda che tutte le battaglie che abbiamo fatto in questi anni è per cambiare queste leggi alcune ci siamo riusciti ci siamo riusciti ci siamo riusciti quindi poi praticamente battaglia fissa lotta continua no 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 lotta continua nel senso del partito sempre in trincea sempre in trincea perché credo che questo sia il compito del sindacato tu li vedi tu sei la sede centrale qua del sindacato viene un giorno mi serve il posto di lavoro che gli dite subito viene la mamma la moglie questo non lavora siamo soli abbiamo due figli ma guarda ma guarda ma guarda che vengono tutti i giorni chiaramente noi non possiamo fare da ufficio di collocamento è chiaro che non ma perché manca se fa ufficio di collocamento a parte il fatto che oramai gli ex ufficio di collocamento adesso si chiamano centro per l'impiego insomma quelli cambiano il nome poi però è la sostanza non gli danno quindi poi non potete fare nulla in realtà ma no no da questo punto di vista non è che possiamo dici come potete fare qualcosa da questo punto di vista tu hai figli? no no io non sono sposato non è spostigola vedi che bella coccia a sciambe che ti ha tranquillo se ti manca un problema da questo punto di vista si posso ritenermi un fortunato però insomma qualche speranza la puoi dare sì dai dici prima di andare qualche speranza qualche speranza i ragazzi che sentono io credo che quando le piazze sono piene storicamente in Italia le battaglie si sono vinte con la lotta sì però chi è che diceva piazze piene urna vuote adesso adesso invece piazze piene urna piene panza piena no ancora però panza piena si vorrebbe questa triade per completare panza piena bene aspetta di andarti perché quando viene inquadrato il maestro palladini tu ti puoi alzare ti ringraziamo vi attendo un grosso lavoro naturalmente vi seguiremo quando hai qualche novità quando vieni qua guarda abbiamo scoperto che si possono assumere persone tu vieni verrai pensi di venire a darci sta notizia certo Amedeo Marcattili come funzione pubblica CGL vintitore alle ultime elezioni degli enti pubblici sì grazie allora in guardate il maestro palladini ciao Amedeo buon lavoro naturalmente maestro buongiorno passo di qua passo di qua non passare tra le telecamere si passa no là in mezzo passa 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 per stare tranquillo perché abbiamo fatto tutto questo perché volevo salutare in regia Pierferdinando Piccioni che sta tutto solo anche se lo supporta il direttore grazie allora maestro buondì buongiorno perché sei qui perché mi hai invitato allora maestro palladini che è docente al conservatorio Braga ma non si è mai risolto l'ho detto pure ieri un tuo collega che è venuto qui il maestro Azzaro che so insegna fisarmonica sì come siete messi mai riconosciuto ancora non si io ricordo i primi articoli negli anni 60 si parlava gli anni 60 alla fine negli anni 60 si parlava del del Braga non ha ottenuto nulla di quello che cercava come ha ottenuto nulla di quello che chiedeva il Braga negli anni è un iter che sta andando avanti poi va beh non vogliamo parlare sì ma lui era più tardi ci vengono un altro obbio sì prego prego tanto abbiamo sentito maestro palladini che suona essendo io un organista e non un pianista allora farò una pratica che è molto usuale presso gli organisti improvviserò qualcosa alla tastiera ci piacerà vedremo lo diciamo dopo inizio dopo sì siamo veramente il caso di dire nelle tue mani sì sì Grazie a tutti. 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 Storicamente se uno stava per dire accompagnando qualche cosa durante la funzione e poi quella continuava. La funzione religiosa. Sì, storicamente è sempre stato così, l'organista doveva essere un improvvisatore perché poi a un certo punto bisognava comunque coprire i tempi che non erano sempre certi. Come andiamo con il grande organo di Alba Adriatica, ricordo bene? Sì, devo dire che si è fatta una stagione di concerti in cui sono rimasti stupidi gli stessi interpreti per la qualità e anche la lunghezza del programma, la ricchezza del cartellone. Che cos'è il più grande organo di Alba Adriatica? Come si chiama che vogliamo salutarlo? Il parroco? Il parroco Don Ezio Mascella. Ce lo devi riportare? Ma basta che lo inviti lui viene, non devo essere certamente... Allora gli puoi dire che è invitato? Eh? Gli puoi dire che è invitato per sabato prossimo? Sì, per sabato prossimo. Perché è un bello prete moderno, ci si può parlare, non è antico, non è bizzocco insomma, sarà aperto credo. Il direttore, io questo non lo dico, io glielo dico, poi compatibilmente con gli impegni che ha, i parroci chiaramente sono sempre impegnati. Un saluto mattino è venuto già, lui è stato il, cosa si chiama? Il cappellano della Fiorentina. Sì, sì. Quindi figurati, hai visto di tutti di più. Tra poco ci risentiamo e non te ne andare, anche se devi andare a insegnare, vero? Stavattina? Sì. Organo? Sì. Ma c'è una... Chi è che fa l'organo? Pochi, beh? Eh, no, non sono... Io se potessi fare il pianoforte, non devi spiacere, però insomma... Ma diciamo che il pianoforte è un bellissimo strumento, come d'altronde lo sono tutti gli strumenti musicali. L'organo è uno strumento che, diciamo, specialmente nella nostra zona, poco conosci uno, uno pensa l'organo, come dire, come uno strumento, ecco, giusto l'Ave Maria, la Marcia Luziale... Esatto, l'agenda è organo chiesa. Invece non è così, anzi, devo dire che l'organo è uno dei pochi strumenti per i quali si continua a comporre. Cioè, se uno volesse, come dire, gli... Ma dici, quando lo dici? È difficile trovare, insomma, dei compositori che compongono... No, diciamo una cosa, ma qual è lo sbocco lavorativo per chi poi ottiene il diploma di organista? Eh, lo sbocco lavorativo è molto... Per ora non è facile per tutti gli altri strumenti. Insomma, ecco, gli strumenti che rendono di più sono quelli che vanno... Cioè, che possono avere un maggiore sbocco lavorativo sono quelli che vanno in orchestra, perché magari ci stanno 50 violini... I violini, i violini, i violoncelli, dieci viole... L'organo non ci sta in orchestra. L'organo in orchestra è previsto come solista. Del resto la stessa cosa col pianoforte. Vabbè, io non ti voglio togliere i clienti, eh no? Non ti voglio togliere gli studenti. No, no, ma gli studenti se lo fanno lo fanno per passione, perché uno deve essere comunque appassionato. Per passione. Ma chi fa... Vediamo questa cosa. Chi sa suonare l'organo sa suonare anche il piano, non è detto? No, allora, certamente chi sa suonare l'organo sa suonare anche il pianoforte. Poi però ci sono dei motivi, come dire, di specificità, per cui colui che ha fatto degli studi pianistici approfonditi, chiaramente è un... sicuramente è più padrone dello strumento rispetto all'organista. L'organista sa suonare il pianoforte, ma non è così specializzato in questo strumento, come dire, come lo può essere il pianista, è chiaro. Va bene, non sparate sul pianista. Allora, noi ci risentiamo tra un po', intanto presentiamo l'ospite che vedete accanto a noi, Ercolino. Ercolino. No, Ercolino, Ercole Covore, però la verità è che è il segretario provinciale della Federazione dei Medici Generici. I medici di famiglia. I medici di basso. Medicina generica. Cioè, quelli che uno chiama e... Ma a proposito, ma ogni medico, quanto può avere massimo di mutuo... Chiamo mutuo per far capire. Massimale... Quelli che si chiamano massimalisti, quanti ce l'hanno? Massimale stabilito è 1.500 assistiti. Quasi tutti ci arrivano? No, perché la media, diciamo, dei medici, diciamo, dei medici per pazienti è 1.000 stabilito dalla Convenzione Nazionale. Il massimale che si può raggiungere è 1.500. Ci arrivano, ma molti? Molti ci arrivano, ma a fronte di quelli che ci arrivano ci sono gli altri che sono sotto a 1.000. Oh, questi medici prendono dei soldi per ogni paziente? Sì, c'è una quota capitaria. Noi siamo, in realtà, noi siamo liberi professionisti. E quindi siamo con un contratto a Convenzione, non siamo dipendenti, c'è una quota capitaria. Noi investiamo in studi, attrezzature e personale che è compreso, diciamo, nella quota capitaria. Vuoi regnare un sacco di soldi? Noi guadagniamo pochissimo. No, tantissimo guadagnare. No, guadagniamo pochissimo. 5, 6.000 euro, 7.000 euro. No, perché... Ho visto alcune... Puoi si pagano? Sì, ma quello non è lo stipendio. Che è? Cioè, io pago... Eh, chissà. Ma sono queste le cifre, però? Se prendo 6.000 euro, mettiamo al mese, poi devo pagare la mia segretaria e quindi costa 1.000 e passa euro. Poi devo pagare lo studio, poi devo pagare il telefono, poi devo pagare le utenze. Ti paghiamo il telefono, la macchina... Eh no, il dipendente pubblico non paga il telefono, non paga. No, noi siamo un privato. Ma voi ci andate, poi vi raccuse... No, siamo libri professionisti e prendi tutto. Ma poi parliamo di quello che per cui ti ho invitato. Ti metto un po', ti faccio arrabbiare un po'. Dice che voi non andate sempre a fare le visite a domicilio, insomma, di tutti quelli che vi chiedono un po' le stie ad andare. Allora... Questo col telefono pensate di poter risolvere. Oggi, diciamo, noi non è che pensiamo che possiamo risolvere. Noi, i nostri pazienti sono fidelizzati, quindi io conosco perfettamente il mio paziente, sono le patologie che ha e so come posso intervenire, anche telefonicamente. E infatti ci sono anche sendenze di cassazione che riconoscono che la consulenza telefonica equivale praticamente non alla visita medica, ma a un consulto... Ma come glieli senti i bronchi, i polmoni per telefono? No, per telefono non sento i bronchi. Quello tossisce, tossisce... Tossisce, però è chiaro, se c'è un'epidemia influenzale... No, no, quello tossisce, vedi, dottor Torre. Se ha patologie di base... Non c'è niente, tossisce ripetutamente, che fai? Non c'è patologie di base. Per telefono. Se non ha patologie di base, se non ha, diciamo, ipertensione, broncopatie cronico-ostruttive, cardiopatiche, cioè una persona sana... Non c'è niente, non c'è niente, ma tossisce ripetutamente. Che in un periodo influenzale si è preso la sua brava influenza... E invece non era. E invece non era. Può essere... Sai cos'era? Era una broncopolmonite. E dopo due, tre giorni... E come si fa? Perché il medico coscienzioso gli ha detto vai a fare la lastra. No. Perché il medico coscienzioso l'avrà visitato. Eh, ci è andato. E ha detto, facciamo una lastra. Però non è detto che io se vado a visitare il primo giorno di febbre posso scoprire che abbia una broncopolmonite. Quindi non... Sì, ma si sono sti che lo scopri. Che significa... Serve 33. 33 serve, come se non serve. Come anche battere cose che sembrano di bambini, ma invece... Esatto. Perché serve 33? Dicevano un po'. Per sapere perché nella... Se il polmone, diciamo, è pieno di catarro, è pieno, diciamo, si è riempito, non c'è aria, la trasmissione della vibrazione è maggiore. È maggiore. È maggiore, sì. Se c'è un versamento pleurico? Se c'è un versamento pleurico è minore perché c'è il liquido e quindi non si trasmette. E quindi me ne accorgete. Come una volta gli indiani quando mettevano l'orecchio per sentire i cavalli. E quando arrivavano è vero, eh? Esatto. Perché... Le vibrazioni. Il solido trasmette di più le vibrazioni rispetto al liquido. Qui sembrava una dica 33, ma invece è vero, vero? Esatto. Si fa normalmente. No, no, si fa normalmente ed è, diciamo, una funzione semiotica molto importante. Come siamo come medici, polincio di terreno? Siete tanti, siete pochi? Il numero giusto è 255 su una popolazione di 306.000 abitanti, poi ci sono 48 pediatri. Questa è la proporzione? Cioè uno, praticamente, può fare... In ogni città ci può stare... Ogni mille abitanti c'è un medico. Questa è la proporzione scritta nella... Eh beh, ma se in una città, per esempio, tutti si lavorano in medicina, ma oltre di più del dovuto, si possono lavorare lo stesso? No, perché ci sono le graduatorie. Non si può superare questo limite, diciamo, di un medico... Allora, quelli che, insomma... Per la medicina generale. Allora, quelli che sono pronti adesso ad entrare nella professione, no? Medico generico, medico di base... Beh, ma adesso siamo in una fase calante di disponibilità di medici sul mercato. Perché? Come mai? Perché il numero chiuso, chiaramente, ha imposto dei vincoli e per anni, quindi, il numero dei laureati è stato sempre, diciamo, fisso. E siccome nel periodo che, diciamo, inizierà, sta già iniziando, dal 2013 fino al 2018, 2019, 2020, molti di noi andranno in pensione, quindi ci sarà... Ci sarà il posto. Sì, un numero di posti molto elevato rispetto ai laureati. Infatti la carenza di medici già c'è, in realtà. Ma sì, quindi i ragazzi che vogliono fare medicina, tu dici che possono iscrivere e fare tranquillamente? Sì, sicuramente. L'importante è che ci siano portati, perché è una professione che si può... E quindi, quali sono le doti che uno, al di là della bravura, poi, ma inizialmente, quali sono le doti? Beh, cioè, secondo me, fare il medico ci fa una certa vocazione, cioè una certa predisposizione, sicuramente, ad aiutare gli altri, insomma, ad ascoltare. Un'altra cosa che succede quando si vede nei film, come il fatto del 33, che vi fanno vedere i cadaveri, uno sviene magari, si vedono ancora i cadaveri? Come no, come no, ci sono le sale settorie in tutti i vari clinici, in tutte le università. Voi andate là, trovate questo cadavere? No, abbiamo esperienza, sì, di alcuni mesi di sala settorie, dove si impara... Sto ancora chi sviene, come si... Beh, certo. Che scende male, succede? È certo. E quello non lo può fare oppure può superare? Può superare, normalmente possono superare. Chi non può superare è chi psicologicamente, per esempio, è portato a, come dire, ad avere molta paura delle patologie. Perché allora, chiaramente, per ogni sintomo, per ogni malattia, diciamo, che si studia, uno pensa di averne già i sintomi e quindi di essere malato. Ipocondriaco. Esatto, ipocondriaco è un po' più difficile. Va bene. Allora, vediamo perché ti ho invitato. Io ho letto qualche parte che adesso non potete più, e questo interessa a tutti, non potete più prescrivere tutte le medicine che vorreste o che ritenete opportuno servono, perché se no avete dei problemi di carattere? Beh, abbiamo dei problemi di carattere economico. No, ma vi fanno anche sull'ordine qualcosa? No, cioè noi, allora, per quanto riguarda i farmaci... Ecco, spieghiamo cos'è cambiato. Allora, è cambiata la normativa della distribuzione, della ricettazione dei farmaci che sono, diciamo, erogati dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè i cosiddetti farmaci di fascia A. Ed è cambiato... C'è un esempio, i nomi si possono fare. Volta Renne che è? No, il Volta Renne è fascia A, no, è fascia A con nota. Per cui la nota, si mette una nota. Si mette una nota, per cui quella, quando io metto la nota è rimborsabile. Quando non metto la nota non è rimborsabile il Sistema Sanitario. E quando metti la nota e in base a che si mette? La nota si mette in base alla patologia, che deve essere una patologia cronica. Eh, quella cronica ce l'ha. Esatto. Volta Renne Muscoli, lei è una bella copiata famosa? Sì, è famosissima, perché è una copiata tra l'antinfiammatorio e il mio rilassante. Allora, quella che dice, ah sì, colpo della strega, che bisogna fare? La lombalgia si fa molto stesso. Si chiama la gente? Volta Renne Muscoli. Dotto, non mi posso muovere, dici no? Sì, ma insomma, ora non c'è più il problema di... Cioè, chiamano telefonicamente per le lombalgie, altrimenti vengono in ambulatorio. Volta Renne, quello va bene. Allora, voi non potete sempre... No, noi per esempio, è cambiata la normativa. Per esempio, le statine... È arrivato uno zoppo, uno zoppo. Chi va con lo zoppo, ma si è ancora infortunato. Non lo possiamo fare entrare? No, perché lui cammina quattro zampe. Avremo un ospite rosetano tra poco. Lo conosci Norante? Come no? Quello che strilla sempre in televisione, quando parleremo con lui. Allora, dici... Allora, per esempio, i farmaci per il colesterolo, le cosiddette statine... Le statine? Per il nuovo decreto, diciamo, il numero... Non va niente il numero. Va bene. Che stabilisce il nuovo decreto? Stabilisce che io posso prescrivere le statine, però una sola scatola per ricetta. Quindi, siccome ogni scatola ha 28 compresse, il paziente è costretto a venire ogni 28 giorni, ogni mese a fare la ricetta, la ripetizione della ricetta nel mio studio. Questo è... Perché quando ce ne sta ogni confezione? 28. Quindi una al giorno? Sì, una al giorno. E cala sto colesterolo? Sì, sì, il colesterolo cala. Ed è un farmaco, diciamo, importantissimo. Famosto? Però, sì, è molto importante. Le statine sono importanti. Sì, ma il farmaco? Il farmaco? No, il farmaco, no, no, vabbè. Non si può, eh? Beh, no. Ma ce ne stanno 100? Sì, ce ne sono moltissime. Allora si parla... La simvastatina, ecco, che è il farmaco generico, principio attivo. Il torvast, va bene, il krestor. Non ne conosco, questo. Ce ne sono, sì. Il simvastin, il simvacor. Buongiorno, il norante è arrivato. Buongiorno. O il norante con le stambelle, vabbè, lo poi linko perché se no non ci credo, che tu ancora zoppichi. Incidente ha avuto nel... La data. Quasi un anno fa, 17 marzo. E come mai ancora... Che è accaduto? Un incidente stradale? Un incidente stradale, sì. Con un camion a rimorcio. Ti travolse? Targato PD. PD! È un segno del destino era. Ti travolse dove? No, sull'autostrato, un incidente in autostrato. Ma c'è colpa? Abbastanza grave. Fortunatamente no. Era meglio non succedere, voglio dire, era meglio che avevi colpa e non ti azzoppavi? No, era meglio che non succedesse. Lo so, ma dovendo succedere preferivi avere colpa e non azzopparti o azzopparti e non avere colpa? No, avere colpa e non azzopparmi. Non è possibile. Beh, è possibile sì. Avevi colpa? No. No, non avevo colpa, però mi sono azzoppato. E quindi? Un anno, quando se ne va? Eh, sono riposto. Ma non puoi camminare, tu? Non puoi proprio camminare senza leggere le... Sì, allora. Quello si chiama quelle grucce? No, troppo. No, stampelle. Stampelle. Quelle moderne, però, no? Quelle di legno. Posso camminare, tra qualche giorno potrei camminare, ma c'è una resi dello spero, quindi... Vabbè. Poi parliamo con te di due o tre cose. Innanzitutto vediamo se ti dice qualcosa di liceo o saffo, ti dice qualcosa? Sì. Sono a scuola. Vabbè, ma sì, ma non solo quello, perché che cosa avete combinato, voi? No, niente. Abbiamo combinato niente. Cos'hanno combinato loro? Eh, allora. Anzi, alcuni di loro, quindi... Per il borsacchio, che parleremo, va bene. Comunque, sei guarito, perché si vede in Consiglio Comunale e sei pure alzato quando parli. Vabbè, ma a me la parola... No, ma alzato, perché potreste avere la dierota per parlare seduto. No, vabbè, ma ci si alza per un fatto di rispetto... Perché devi attaccare Teresa Ginobili. Ma quando mi piace quando tu dici... Ma senza pietà. Io credo che voi avete sofferto molto... Scusami, dottor, eh. Prego. Quando tu, quando devi andare a lavorare? No, no, stamattina... Beh, stai qua. Quando... Io credo che voi dovete aver sofferto molto durante l'ultima amministrazione comunale. Le pene dell'inferno. Quando tu dici... Vi dovete... Voi dovete chiedere scusa alla cittadinanza di quello che avete fatto. Sei il più... Di tutti quelli che parlano della maggioranza. Sei quello sempre quello più irruente. No, senza sconti. Senza sconti. Hanno fatto un sacco di danni. Adesso devono chiedere perdono. E poi perdoni, dici. Dovete chiedere perdono. Il minimo che dovrebbero fare. Perché se tu fai dei danni, fai problemi alla cittadinanza, la prima cosa che devi fare dovresti chiedere perdono. Anche perché se stanno all'opposizione, si liberi, ci sarà un motivo. Non sbagliare, secondo te, rompere l'alleanza con tutti gli altri gruppi di sinistra. Prendiamo di vincere da solo il PD. Dopo l'hanno fatta. A balottaggio l'hanno fatta. Vabbè, ma il PD era ormai... Avete trovato un candidato. Senza dei bravi, perché avete rinunciato a candidato che meritava magari come partito il più numeroso. E avete scelto il sindaco, che era libero socialista. Voi hai questa tradizione rosetana di libero socialisti. È una tradizione... Ormai... Dove ce l'hanno lì? Dove ce l'hanno lì? Ce l'hanno a San Domenico. A San Domenico, in vibrato. Allo stesso tempo è una tradizione da sempre, praticamente. Io vedo che poi mi sono informato. Un altro benvoluto è Di Marco, per esempio. Te è una orribile voce. C'è la voce brutta assai. Diccio, lei si può un po' cambiare. Consigliere di noble. Lui poteva essere lui il candidato, vero? Ti hai parlato per un attimo. Sì, poteva essere anche lui. Anzi, lui doveva essere il nostro candidato nel 2001. Quando candidammo Martinelli, poi... Martinelli del basket. Allora Presidente del basket. Tutto cambia. Ma se ne contenti, Alessio Arranguilli? Poi parliamo di Borsacchio, perché si capisce niente là, eh? Ma si deve risolverlo, qualsiasi soluzione. Noi lo stiamo sollecitando da tempo, ma insomma... Poi parliamo, ti racconto, com'è nato il Borsacchio. Lo signore del sindaco diceva l'altra sera, diceva, ma che c'è, ad esempio, il Borsacchio con i palazzoni dell'annunziata di Giulianova? Cioè, che cosa bisogna preservare lì? Ma perché dal Borsacchio arriva fino a Giulianova? Di mezzo non ci sta anche il tornare a Tordino, non esiste quello, no? Sì, no, tutta l'area arriva fino a Giulianova. Perché si chiama Borsacchio? Perché praticamente, diciamo che, il vero nucleo della riserva è stato dal Borsacchio fino a Cologna. Eh, ma ci stanno delle zone verdi, quelle sì, quelle vedo che vanno preservate, quelle sì. Quando stanno i palazzoni, che fa, li abbattiamo? Eh, beh, è bello abbattere l'unziata, perché sono orribili, sono orribili. Però, insomma, non si può fare. Ma adesso ormai... Allora, tu come stai? Che medicina prendi? Per, non dirai il nome, ma per il prete ancora in cura? Sì, sì, per la medicina antidolorifici, perché c'è... Ma si fa male ancora? Eh sì, un fatto interessato in nervo, quindi, insomma... Nervo sciatico? Nervo sciatico, sì. Che dolore, beh? Tottò, come si fa con il nervo sciatico? C'è il rimedio? Eh, ma lui ha un'alterazione dovuta al trauma, quindi c'è un'interruzione... Di pubblico servizio, no? Ma che cos'è riportato in realtà? Chiaramente il dolore è difficile da combattere, è una cosa difficile, poi guarisce con molto tempo, con molto... Se guarisce? Molto tempo, se guarisce, perché? Perché l'interruzione del nervo comunque comporta una difficoltà della ricostruzione del nervo. Ma se rocce, perché succede? No, non si rocce, come se si fosse stirato, sfilato. Ma si ricombatta poi? Si può ricombattare perché la ricostruzione può seguire il vecchio tracciato del nervo. Se no, tu dovresti... come cammineresti? Vedi, io cammino con queste cose, ci vedi? Ah, c'è una protesi? Una molla, no. Una molla? Una molla che mantiene il piede. Il piede? Certo, dimenti... Cade. Norante cammina a molla, allora. Se la carica la molla, a molla. Vabbè, insomma, si guarisce, si andrà meglio? Beh, può andare sicuramente meglio, deve fare molta riabilitazione, deve... Stai facendo già? Sì, però, capito, ho fatto un neurologico più di ortopedio, quindi... Ah, più un neurologico. Sì, sì, perché quello è stirato, il nervo si esfilato. Ma sto sciatico, poi è un nervo terrificante, è terribile. Il nervo sciatico è terrificante nel senso che ti prende tutta la... Tutta la gamba. Tutta l'arto, sì. Se no un altro potrò avere il tesserino quello per... Eh? Per gli invaliti. Ma almeno questo non ce l'hai attualmente? No, non ce l'hai. Non ce l'ho, perché ho... Non posso guidare, devo trovare chi mi porto. Te l'hai trovato, evidentemente. Ho trovato... Salutalo. Amico a Tegliodensi, che è il caporuppo dell'Udc al Comune di Roseto, che ha fatto questa elevataccia, ma tu dire... Perché già, poi l'Udc c'era... Tu fai le trasmissioni alla mattina alle sette e mezzo, e poi se decidono qua... Ci metti in crisi, insomma. Metti in crisi, ah beh, ogni tanto, che facevi se no stamattina? Sostrima a me, e dormiva, e beh, quindi è una cosa che puoi fare tutti i giorni. Ah, senza altro, senza altro. Infatti sono venuto volentieri, questi sono il primo. Lei, che poi parliamo. Allora, dottor, su. Non si possono dare più le medicine che si vogliono? Allora, non si possono prescrivere più le quantità che erano previste prima. Quindi, perché per il resto si può prescrivere. Ma per tutti i medicini sono quelle di fascia? No, solo quelle di fascia, solo per alcuni tipi. Cioè per gli antipertensivi, i cosiddetti sartani, e per il lipo... Contro una pressione alta, va bene? E contro il colesterolo. E quelli? E bastano quelli? Sì, solo quelli, sì. Il Voltaren, quindi, due scatole? Il Voltaren, no, sempre una scatola, ma quella è da sempre. Ah, da sempre. Muscoril pure? Muscoril non è fascia A, quindi fascia C si paga. Come siamo messi? La taghipirina, lo stesso, è fascia A, è fascia C, quindi deve essere pagata dal paziente. Scusa, voglio fare una domanda? Prego, prego, interloquite. Se non ti dottor, se ci sarà il farmaco monodose, quanto risparmierà la sanità italiana? Col farmaco monodose si possono risparmiare parecchi milioni di euro. Beh, perché molti farmaci poi vengono buttati perché non vengono utilizzati. Sì, perché dalla scatola, sì, sì, sì. Ma il farmaco monodose è sicuramente, diciamo, una prospettiva in avvenire che deve essere attuata se vogliamo veramente razionalizzare la spesa farmaceutica. E quindi è una cosa estremamente importante. E si eliminano soprattutto i cassetti pieni di farmaci nelle varie famiglie, che oggi è uno degli elementi fondamentali della spesa farmaceutica, perché diciamo che quantificare la presenza dei farmaci dentro le famiglie è sicuramente intorno al 8-10% della spesa totale, che su una spesa di 20 miliardi, 17-18 miliardi, sono parecchi soldi. Vabbè, insomma, quindi già lo sto applicando questo... Sì, sì, questo è un decreto che noi già stiamo applicando da diversi mesi. Ma monodose che significa? Pure dei passiccoli? No, monodose vuol dire che tu prendi le dosi necessarie per il tuo ciclo terapeutico. Lo stabilisci il medico, ovviamente. Sì, stabilisci il medico e viene fatto proprio per quel ciclo terapeutico specifico. Quindi poi magari in giugno di effetti ne dai un altro, perché in effetti in tutte le famiglie ci sono questi cassetti pieni di medici. Sì, in tutte le famiglie. Questo è vero. E con i farmaci... Perché tu gli dai i farmaci, quello guarisce... No, ma si è aggravato, adesso è ancora più grave, con i farmaci generici. Perché il farmaci... Fa un esempio. La novalgina com'è? No, la novalgina è sempre fasciaci. Quindi si paga? Sì, sì, si paga. Ma il farmacogeno, per esempio il Voltaren, Il Diclofenac è un farmaco generico. Il farmaco generico viene praticamente sul libero mercato, per cui noi possiamo trovare delle confezioni di Diclofenac di Voltaren che sono di vario colore, celeste, rosso, verde, eccetera. E siccome per esempio le persone anziane, che vanno per colore, per forma di scatola, per forma delle pasticche, eccetera, si ritrovano molto spesso con una serie di scatole che hanno lo stesso farmaco e che loro praticamente non usano, viene addirittura poi buttato. Oppure fanno confusione, prendono più farmaci, più pasticche dello stesso farmaco, eccetera. Eh, bello. Vediamo come la pensi. Quando tu parli adesso, hai detto, le persone anziane, per te medico, quando è che una persona comincia ad essere anziana? Beh, adesso, oggi si deve considerare una persona anziana al di sopra dei 70-75 anni. Perché non è più neanche proponibile. Sei tranquillo. Siamo tranquilli ancora, siamo tranquilli. No, ma non è più proponibile. Cioè, fino a dieci anni fa si consideravano gli ultra 65 anni. Oggi non è più proponibile. Veramente, quando ero giovenile, se passavano tutti 50 anni, dici questo ormai è vicino. No, ma non è più proponibile, proprio né da un punto di vista statistico, né da un punto di vista di organizzazione delle attività sanitarie e sociali sul territorio. Perché la gente cambia di più? Beh, si vive di più per una serie di fattori. La medicina è fondamentale, eh? La medicina, sicuramente, i progressi medici. Tu pensi, gli antibiotici. Ah beh, certo. Allora, la rivoluzione degli antibiotici o della penicillina. La rivoluzione degli antibiotici è sotto gli occhi di tutti. Ma poi i farmaci, tutti i farmaci per le patologie croniche. Cardiiche. Che evitano le complicanze. Quindi i farmaci per le malattie cardiiche, per i tensivi, broncopatie croniche. Ma gli stessi farmaci antinfiammatori per l'artrosi, insomma, permettono di avere una vita, diciamo, più migliore. Questo è. Più degna, diciamo, no? E anche gli interventi chirurgici. Con meno dolore. Esatto, gli interventi chirurgici. Quindi la medicina ci viene in vita? Beh, sì, sicuramente. E' uno dei fattori, oltre alle condizioni di vita, di base, che sono miglioranti. Tu sei massimalista. Sì, facciamo suonare il maestro Palladini che deve andare. Tu sei massimalista. Io sono massimalista. Oltre a 3.000, sì. No, no, 3.000 no, però sono massimalista da molto tempo. Anche in provincia di Tena potrebbe aumentare. Se migliorasse l'efficienza degli ospedali della Mani, aumenterebbe anche da noi. Ci sono dei... No, ma la provincia, dal punto di vista dell'età media, la provincia di Tena non è che sta messa male, anzi. No, no, dì, tu potrebbe aumentare. Ancora? Sì, sì. Per l'efficienza, attraverso l'efficienza degli ospedali della Mani. Noi abbiamo una percentuale di ultra 65 anni, oramai intorno al 22%. Va bene, bella notizia. Che è una media, diciamo... Tu quant'anni fai? Io ce ne ho 60 compiuti un mese fa. Soltanto. Volevo approfittare... Ma devi approfittare, perché va da posto, ma che ne devi tu. No, per questo motivo qua, perché la tesi che porto avanti io è di fare un unico ospedale in provincia di Teno, all'uscita dell'autostrada di Mociano, quindi baricentrico, in modo che se uno ha un infarto arriva in 20 minuti da tutte le parti della provincia, trasformare agli altri ospedali, strutture riabilitative pubbliche, non esiste in provincia di Teno, RSA, che uno non deve andare a Castirente per poter stare in RSA, ma che possa andare anche in una RSA in una città, e avremmo sicuramente un ospedale d'eccellenza, perché alcuni reparti sono già oggi, sul messaggero si parlava appunto del reparto di Chieti, di Ardioriurgia, Chieti e Termoli sono reparti d'eccellenza, avremmo un ospedale d'eccellenza, perché l'eccellenza si fa facendo tanti interventi, migliaia di interventi, e invece di fare l'ospedale a Giulianova, come un Giuliese l'ospedale, invece ne facciamo uno solo, baricentrico in modo tale, dove lo vuoi fare? L'uscita, il baricentro, sto parlando di Bociano, che è una città, non è certamente governata dal centro-destra, ma infatti non interessa la salute al di là del centro-destra e centro-sinistra, ma questo è stato sempre il centro-destra? Diciamo, l'area è sempre stata quella di centro-destra, strano una pittura... Abbiamo avuto tempo di stare con la DC... Nel 90 eravamo consiglieri comunali, la prima volta l'abbiamo mandato all'opposizione del PC, allora il PDS è stato nel 90... Ma Ragnoli era bravo? Era... è stato... forse il sindaco insieme a Dilario è il sindaco più amato... Più amato dei rosetani... Insieme a Pio Dilario... Pio Dilario, che poi invece chiuse la carriera a Ruzzo... Sono i sindaci più amati dei rosetani... Più amati proprio? Sì, sì... Poi niente... Infatti vorremmo cercare di arrivare a concludere per dedicare a Ragnoli tutta la cittadella dello sport... Ah, lo volete fare... Dove... Palazzetto, Giambitadetto, tutto per realizzare... Tutto quel gruppo... Ci torniamo, allora... Che faccio? Te ne vai? Beh... Sei contento? Sei da bene? Sì, sì... Dini qualche parola che guarirà, diglielo... No, guarirà sicuramente... Per il fine settimana bisogna trovare con tranquillità... Ma sicuramente guarirà, ci vuole tempo... Sei il re dei medici di famiglia... No, sei il segretario... Sì, sì... Vieni eletto... Sì, sì... E quindi vuol dire che ti stipano... Certo... I ciclocelli che mi dici, va bene, ciclocelli... Sì, Roberto è... Pediatra... Sì, sì... Molto... Vov'è? Esuberante... Esuberante... Diciamo, esuberante... No, volevo semplicemente... Prego... Per chiudere dire semplicemente su quel ragionamento dell'organizzazione degli ospedali... Allora nella... Siete chiamate in causa più volte... Nella sanità, diciamo, quello che si deve pensare sono due cose fondamentali, cioè la parte ospedaliera e la parte del territorio. Per quanto riguarda la parte ospedaliera, quello che dice lui sicuramente è, come dire, è condivisibile. Il problema che noi oggi però abbiamo è quello di pensare al presente, cioè in prospettiva futura, probabilmente fra dieci anni, quindici anni si può arrivare a questo. Nel frattempo che facciamo? Però nel frattempo noi abbiamo la necessità di riorganizzare la nostra rete ospedaliere, di farla funzionare, perché lasciare, diciamo, le strutture come l'ospedale di Giulianova, quello di Atrio, quello di Sant'Omero, con questo sistema, vuol dire affossare quelle strutture, ma soprattutto fare una sanità che non è efficace ed efficiente. Riorganizziamo i distretti. Esatto. Allora bisogna riminanziare il territorio, riorganizzare il territorio per organizzare meglio la rete ospedaliera. Questo è un passo fondamentale. Però, ecco, io quello che dico sempre ai politici, pensiamo anche ad oggi, cioè è inutile fare un programma che avverrà fra dieci, quindici anni, quando oggi abbiamo i problemi, quando oggi non riusciamo a curare nel modo migliore le persone. Perché poi ci vorrà sempre dieci, quindici anni. Facciamo un programma a breve, a media, a lungo tempo. Esattamente. In attesa di quello nuovo che potrebbe andare bene anche a questa soluzione. La programmazione è importante, però oggi noi abbiamo questi problemi e dobbiamo risolverli. Grazie, dottor Corre. Va bene, dottor Corre? Sì, il problema è che si fa troppo spesso la sanità per i medici e meno per gli utenti. Ecco, ma com'è? Questo morì apre un fronte di polemiche. No, no, no. Io parlo in generale, più per gli utenti che per i primari. Ma questo parla di dire al conservatorio. C'è una canzone di Ragneri che si chiama Via del Conservatorio, che tu non conosci ovviamente, no? No. Ma è niente, poi musica leggera, zero. No. Solo organo, tutte... No, no, perché? La musica leggera, se serve, suona... C'è una canzone in cui c'è questa frase, suona l'armonica mi sembra un organo. Cos'è? Sì. Falla, falla. Eh, falla? No, avevo previsto un'altra cosa, che però sembra leggera. Sì, però fa due noti di queste, che era un successo mondiale. Sì, però... Bravo, che cos'è che volevi fare? No, adesso eseguirò un tema... Ma questo ci piaceva il giorno, una cosa tipo questa si deve fare. Sì, eseguirò un tema di un musicista famosissimo, che è quello della Pandera Rosa, che si chiama Henry Mancini, Mancini detto alla americana, e questo è un tema da un film famosissimo. Adesso io non lo dico il titolo, perché secondo me lo riconoscono. Ma ci piace? Eh? Tu pensi che ci piacerà? Secondo me sì, secondo me sì. Il teatro è stato andato già bene, eh? Vediamo un po'. Vediamo, sentiamo. Sì. 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 e si calma se venga a calmare non deve nemmeno parlare perché metto un accordo tutto subito sei bravissimo al pianoforte sei molto bravo al pianoforte, ti è piaciuto ah ti è piaciuto? sicuramente nella schiera dei pianisti io sto in basso non ci è sembrato non ci è sembrato grazie maestro grazie di essere intervenuto buona lezione buon fine settimana allora cominciamo da questa notizia perché se no qua si passa il tempo ti leggo questa nota la risoluzione approvata dal centro-destra lo scorso 5 marzo presentata dai consiglieri del PDL obbliga il comune di Roseto a intraprendere azioni presso il ministero della pubblica istruzione e la prefettura per sanzionare il comportamento del preside e dei docenti dell'iceo Saffo di Roseto ritenuto dalla maggioranza fazioso e politicizzato mai nella storia della nostra città è stato usato uno strumento d'urgenza come una risoluzione per difendere un sindaco dei ragazzi di un liceo lo hanno scritto in una nota Marco Borgatti, Teresa Ginobile, Domenico Cappucci e le segreterie di SEL e PSI Rossetane che avete combinato? no ti hanno combinato ma allora che è successo? quel giorno chi andò al liceo Saffo? una delegazione? no quel giorno venne la delegazione venne venne la commissione regionale preseduta da Ricciuti che si occupa della materia del riperimetrazione del borsacchio e venne a fare è stato invitato per vedere che cos'è questa riserva per rendersi pronto perché loro devono decidere su una riperimetrazione senza sapere neanche dove sta la riserva e hanno fatto il giro ma poi era prevista una visita al liceo? Ricciuti era stato invitato dal preside dal dirigente scolastico che tra l'altro mi era un bagno di spole delle scuole medie siamo stati consiglieri comunali nel 90 insieme anche lui era consigliere ma sempre su sponde diverse sì lui è sempre un verde un ambientalista è vero sì e quindi siamo stati insieme in consiglio comunale era stato invitato Ricciuti dal dirigente scolastico a un incontro e quindi al termine di questo giro lui e il sindaco sono andati a questo incontro questo incontro con gli studenti del liceo questo incontro e così invece si è trasformato in una vera e propria manifestazione perché hanno trovato gli strigioni i ragazzi con le magliette con delle dichiarazioni già preparate eccetera era una manifestazione organizzata per dire no alla riperimetrazione no a quello che ha deciso il consiglio comunale che insomma dovrebbe essere l'ordine sovrano della città perché è legittimamente eletto e quindi è stata una manifestazione organizzata proprio per no in maniera una specie di manifestazione di propaganda politica e questa risoluzione e c'era il povero sindaco lì il quale c'era anche il sindaco ha parlato? si ha parlato è stato incittito? si ma c'è stata c'è stata tutta una situazione una manifestazione manifestazione e Virgil come si comportava? no vabbè ma lui al di là del perché l'ha organizzata queste manifestazioni dentro l'hanno organizzata se l'hanno fatta al liceo l'hanno organizzata per le del liceo quindi Virgil sapeva sapeva sì ma oltre a lui alcuni docenti alcuni docenti che sono impegnati che voi conoscete tutti sono impegnati anche politicamente e quindi noi abbiamo questa risoluzione non è tanto per liceo SAF ma per dire che i ragazzi e voi che avete fatto allora che cosa è la risoluzione? noi abbiamo presentato in consiglio comunale una risoluzione contro la strumentalizzazione dei ragazzi soprattutto dei minori perché noi ci sono anche dei minori che dovrebbero essere messi in condizione di un confronto tra le varie opinioni e poi il ragazzo si fa un'opinione da solo non è che viene indotto a fare questo sono cose che la politica questo tipo di propaganda deve essere eliminata dalla scuola perché la scuola deve essere una cosa diversa abbiamo detto al dirigente scolastico regionale di verificare se è accaduto o non è accaduto andranno a verificare e verificassero se la cosa è vera oppure no e prendessero i provvedimenti necessari perché a scuola si fa insegnamento didattico anche di politica ma non propaganda politica sono due cose diverse perché poi là naturalmente alzandoci gli studenti potevano dire la loro sì però io ieri ho rilanciato un po' noi siamo disponibili anzi chiediamo al dirigente scolastico di andare a scuola e illustrare le varie posizioni in maniera diciamo che i ragazzi si facciano una idea da soli hanno tutte le posizioni fanno le domande chiedono però questi criticano Borgatti Ginobla vabbè ma loro sono i comunisti ma va avanti comunisti ma tutti assieme Borgatti i comunisti Ginobla Ginobla è il catto comunista il catto perché è cattolica viene dalla margherita di Lusi Cappucci è stato pure sindaco docente del liceo Cappucci Cappucci è stato sindaco PC e pure bravi anni come docente sono bravissimi questi qua gli anni sì sì gli anni mi sembra che non insegna più no no gli anni no però ti ricordi no sì è stato anche sedentario del partito comunista esatto quindi ci voglio dire quindi non è che è vero insomma questo è accaduto però la gente vorrebbe sapere perché la regione non riesce ancora mai a decine quando è che se ne parla anche l'altro giorno non ha deciso non ha deciso perché ci sta quello scendiretto di Acerbo lo scendiretto si può dire sì lo scendiretto di Luciano D'Alfonso perché è quello che portava D'Alfonso in palma di mano come si dice sì il consigliere regionale di fondazione comunista era praticamente voleva impedire che D'Alfonso si candidasse in regione perché era troppo importante per pescare questo dice le parole di Acerbo per far dire che ha fatto 700 emendamenti e continua a presentare emendamenti impedendo di fatto che si possa perché sono emendamenti che bisogna discutere se vengono presentati uno per uno certo e l'ostrusionismo parlamentare in questo caso in piccolo allora può succedere che la regione si stupida sì che è basta si cangioriamo tutto ma infatti ci sono due proposte di legge adesso adesso sono rimaste due una è quella di Rabuffo che poi è stata diciamo sostenuta un po' da tutti quanti che è per la riperimetrazione e noi come consiglio abbiamo approvato la riperimetrazione anche Giuliano e l'abbiamo inviata alla regione in modo che venisse presa in considerazione un'altra di Venturone per eliminare ma diciamo è anche un po' provocatoria è provocatoria per dire Acerbo cioè non continuare perché se no dopo superi la soglia ma se ne esce? lo fate nell'anno? ma io mi auguro che aspetta la regione adesso ora penso che in termini pratici si sia arrivati a una alla finale anche per te scusami perché non approvare significa continuare a riviare questa l'attuazione di questa riserva che sono sono sette anni che è di bloccata sette anni i cittadini si sono stupati che cosa sta bloccando nella pratica il non attuare nulla? sta bloccando il fatto che nell'ambito della riserva ci deve essere un piano il pane il piano di assetto naturalistico una specie di piano regolatore della riserva che deve individuare i siti che cosa ci si può fare cosa non ci si può fare perché poi non si può fare niente non si può fare niente perché è tutto bloccato e quindi i cittadini sono bloccati perché non ci si può fare niente addirittura noi stiamo per approvare si scriveva uno con una buona e bella distruttura della casa ma non si può fare niente è tutto bloccato perché per fare qualcosa adesso bisogna aspettare il pan che il centrosinistra sostenuto da Borgatti e da questi qui stava per presentare ma stava per presentare un piano per 50.000 metri quadrati ricostruito nella riserva perché era questo quindi si sblocca secondo te adesso siamo arrivati al momento di decidere non si può continuare a bloccare i cittadini questa è la posizione più moderata ma più giusta la rivediamo bene sì anche se invece Venturone non c'è riserva Venturone è un gesto provocatorio per dire guarda lo decidiamo oppure anche perché questa riserva devi sapere anche come è nata questa riserva è nata perché un emendamento del loro consigliere di rifondazione comunista Angelo Orlando il consiglio regionale io ero presente per la notte alle 3 di mattina mentre si approvava la finanziaria in mezzo alla confusione generale eccetera ci fu questo emendamento che venne presentato e passò che diceva che diceva che istituiva la riserva non è una riserva partita dal basso cioè i cittadini vogliono la riserva ma chi non è risorlando che qualcuno era ma fu un atto di rifondazione comunista contro il villaggio marestre che doveva essere realizzato a Roseto loro erano contro il villaggio marestre e riguardava solo la zona della spiaggia di Torale invece la riserva adesso è il 25% del territorio di Roseto sono 1100 anche di lava vero? 1100 ettari anche di lava statale vero? esatto tutta la zona che arriva fino a Colonia quasi a Colonia maese l'oltre da Gianmartino Gianmartino ho sentito quindi noi infatti noi adesso queste polemiche sulla riperimetrazione noi abbiamo ampliato di altri 50 ettari inserendo i Calanchi la zona dei Calanchi di Roseto quindi ci si lamenta sulla riperimetrazione l'abbiamo ampliata pure quindi per farla però partire perché se no questo non parte mai vabbè quindi ci siamo domanda proprio secca non da allungare però perché avete vinto a Roseto? abbiamo vinto a Roseto perché ma si sentiva nell'aria? si si sentiva quando si giravate per la campagna elettorale si si sentiva cioè si sentiva già da quando ne hai fatti tu di campagna? eh parecchio quindi la volta scorsa si sentiva che vinceva il buon evento si capitava l'altra volta era abbastanza poi ci spacciammo pure nuova esatto ci presentammo più per per partecipare ma non era perché dice che quanti comiti ha fatto è andato ovunque Pavone si è andato ovunque diciamo anche la sua presenza e penso anche soprattutto la sua presenza è stata una presenza anche importante perché nonostante si trattasse non di un politico nuovo ma di chi aveva fatto aveva già svolto era stato anche con loro con il centro-sinistra si aveva appoggiato però diciamo questa scelta dell'area socialista e la sua figura comunque anche stando nel centro-sinistra è stato assessore però insomma adesso nella campagna elettorale è venuto fuori un po' questa figura più nella campagna elettorale che prima perché prima aveva un ruolo anche abbastanza limitato e gli facevano avere un ruolo anche abbastanza limitato adesso invece dice chiaramente che lo cacciarono si ma fu cacciato in un momento tra l'altro anche abbastanza la gente la gente la capisce ricordata si è ricordata si è ricordata un momento drammaticissimo della sua vita esatto e fu proprio là fu cacciato anche per scherza partecipazione in un momento in cui sicuramente aveva ben altre cose cui pensare quindi anche quello ha inciso secondo me però sebbene non fosse il nuovo c'è una figura che fu la gente poi invece lo ha apprezzato e lo ha votato l'ha conosciuto meglio avete dovuto tu siete subito d'accordo a rinunciare un candidato del PDL si ma noi ti dicevo prima già nel 2001 avevamo fatto questa diciamo proposta al gruppo dei socialisti che però decise diversamente altrimenti già nel 2001 avremmo vinto in base all'andamento del risultato elettorale di allora avremmo vinto pure ci avevate candidato adesso il PDL ce l'avete volendo ma senza nomi però l'avremmo trovato si l'avremmo trovato però è stata una scelta strategica d'accordo con Paolo Tancredi e tutto il gruppo dirigente del PDL per fare e abbiamo puntato anche sui giovani anche il fatto di avere degli assessori un assessore di 25 anni fornaciare i vannucci di 30 anni sono tutti giovani a vannucci parente? all'altro vannucci no niente ma i più anziani siete anziani tu e Marini? no Marini è più anziano di me e però parla pure Marini vabbè Marini insomma ma non è antipatico dialogo c'è un'esperienza l'italiano non è il massimo però si fa capire sembra molto genuino una persona di rossa è stata ton ragnore quindi figuriamo quando parli tu vi beccate ripetutamente con la Ginobile vabbè lo frattare di meno la Ginobile ma vabbè ma il confronto politico di Arezzo avevano il dubbio di perdere o no erano convinti di vincere? ma io sono io sono convinto che loro fossero convinti di vincere fino alla fine non si erano resi tonto fino in fondo perché se si fossero resi tonto prima avrebbero attuato un'altra strategia si parlava anche di un altro candidato Tottanelli come sarebbe andato? uguale? perdeva? un po' meglio? non si può dire sicuramente questo fatto di di aver imposto tra virgolette la Ginob non è andata giù a parecchia a parecchia gente se fossero stati uniti tutti al primo turno nemmeno niente da fare insomma non è che la sinistra estrema diciamo così la Montipotina è una rossa presenza è l'area socialista che ha una da sempre prima rappresentava il 30% della politica rossetana quando è passato? dalle elezioni? adesso il 30 maggio fa un anno un anno se si votasse domani pensate di vincere ancora? io penso di sì spiegaci una cosa Giulia Nova farmacia comunale la maggioranza di centro-sinistra vuole chiudere il centro-nestra sbraito no non si deve fare roseto il centro-destra lo vuole chiudere il centro-sinistra dice no che deve pensare il cittadino comune? ma bisogna vedere io non ho i dati della farmacia di Giulia Nova ma la vostra com'è? quando guadagna? te lo sai? guarda l'ultimo anno ha avuto un guadagno intorno ai 50 mila euro al mese? no all'anno e ho capito però voglio dire adesso non si può vendere più perché con la liberalizzazione chi se la va a comprare la farmacia comunale? vabbè una farmacia che opera in quella zona noi la vendiamo ma ci avete non lo sai non si può dire ma stanno arrivando le offerte? ma no non c'è il bando il bando la prossima settimana ma le manifestazioni grosse come quelle di Giulia Nova tutti insieme appassionatamente evidentemente a Giulia Nova avrà un fatturato e un incasso tale da giustificare la non vendita da noi non c'è evidentemente ci sono realtà diverse ma poi scusa è bene precisare che il comune vende la farmacia che non chiude che rimane là verrà gestita da un privato sicuramente 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 noi siamo per i privati più che per il pubblico è chiaro che il privato lo gestisce sicuramente meglio del pubblico ma d'altra parte ma vanno tutte bene le farmacie di Rossetti tutti belli io penso proprio di sì io ovunque adesso posso preoccupare penso che le farmacie una farmacia del genere non può invece stanno giudendo invece con Giulia Nova siete d'accordo sulla riperimetrazione sì sì Giulia Nova ce la sono annunziata e non ha senso esatto siete stati vicini anche per quanto riguarda adesso il fatto del campo insomma è stato molto vicino al Comune è il minimo che potessimo fare con Marcio Marci si può dialogare anche lui parla bene con Papone va detto sì ci si dialoga tra amministrazioni non ci sono più le barriere di una volta ma magari tra amministrazioni tra amministrazioni è un po' diverso ancora un po' diverso noi stiamo bene ti comportavi bene insomma in questa circostanza perché il Comune Roseto è stato perfetto grazie no grazie perché scusa devo farti una domanda ah sì perché siamo in chiusura vabbè per chiudere eh vuoi ricordare ai nostri delle spettatorie quando facevi l'arbitro al campo sportivo dei preti nei tornei bellissimi invocati una nota del genere quando presero quel giornatore e presi i palloni e se ne andò esatto per protesta mi lascio là grazie Norante buona giornata buon fine settimana a tutti grazie a tutti